La scorta stagione li ha visti cedere il titolo ai propri rivali, quest'anno vogliono rifarsi, a cominciare da oggi. Comincia dunque la gara. Vediamo in campo la formazione del Manchester United. Ecco gli undici di partenza del Tottenham Hotspur. Chad Lee. Palla in out, sarà corner. Palla ancora in calcio d'angolo. Intervento comodo del portiere, nessun problema per lui. E c'è subito dunque calcio di punizione. Ericsson. Intervento falloso, gara subito calda. Darnian ha segnato il Manchester United. Specialista su queste situazioni, il difensore. Una grande soddisfazione per lui Pierluigi. Sta qui. Ed ecco dunque... Arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Fischio dell'arbitro, c'è grande agonismo, subito. Vertonghen. Recura la palla grazie a un buon tackle. Schweinsteiger. Ci sarà rimessa dal punto. La mela. C'è il tocco sulla fascia. Sarà calcio di punizione contro lo United. Arbitro che non vuole perdere subito il controllo della gara e lo dimostra in questo modo. Si, vuole tenere le redini della gara. I giocatori dovranno stare molto attenti. Un'occasione monumentale quella che ha sbagliato. E' qui tradito da un rimbalzo, Pier. Palla che finisce in corner. Ecco il tiro. Hanno riaperto la partita col gol del pareggio. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire. Non l'hanno sprecata. Quando un calcio d'angolo è battuto così alla perfezione, risulta sempre molto più facile la deviazione. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Partiglia bene il pallone. Kane. Dyer. Dembélé. Darmian. C'è il fuorigioco, secondo l'arbitro e gli assistenti. Asley Young. Hanno provato a sfondare per via centrali, ma sono stati fermati. La mela. Supera facilmente il difensore. Palla che esce e sarà faro laterale. Show. Faro laterale da buona posizione, devono sfruttarlo. Alderweireld. Danny Rose. Dembélé. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Dyer. Ottima lettura difensiva. Palla in mezzo verso Rooney. C'è spazio davanti a sé. C'è spazio davanti a sé. Attenzione. Fela in me. Conclusione da cancellare. Alderweireld. Kane. Darmian. parte il traversone. Rooney. Grande intervento del portiere. Cerca la rete. Ed entra in rete. Gol. Stiamo rivenendo il gol del Manchester United. Ho sfruttato al meglio questo calcio d'angolo. La difesa qui ha dormito dopo la prima respinta del portiere. E ovviamente fiuto del gol per insaccare sulla ribattura. Si riparte con il Tottenham sotto nel punteggio. Un'entrata decisa e efficace. cross pericolo. Cross pericolo. Pericolo. ottimo il tiki-taka qui. Recupera il pallone sulla fascia. perdono il possesso del pallone. Schneiderlin. Schweinsteiger. non controlla bene il pallone e lo perde. Walker. Shaw. è riuscita a interrompere la trama con un buon intervento. Kane. L'arbitro fischia il fallo contro il Manchester United. Battono subito. Dyer. Lottano per conquistare il pallone. Schweinsteiger. Asley Young. Recupera il pallone con un intervento facile. Occhio al cross. Refinge il pallone di pugno. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. E si chiudono qui. Alleratore che decide di farlo uscire per il bene della squadra dopo l'ammunizione non vuole rischiare nulla. Mi sembra correttissimo, saggio, esperto. Dyer. La mela. Può metterla in aria. Runei. Dyer. Kane. Nessun dubbio. Sarà punizione per gli Spurs. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Primo tempo incoraggiante il suo, giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Schweinsteiger. Occhio alla botta. Conclusione senza angolo questa. Ericsson. Supera facilmente il difensore. D'Armiano. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Ericsson. Dembélé. Runei. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Il Manchester United guadagna dunque la rimessa con le mani. Show. Palla e mezzo verso Runei. Ha spazio per tirare. È tutto fermo. Si alza la bandierina dell'assistente. Ci sono le proteste. Questa poteva essere una grande occasione. Eh sì. Hai ragione, Pierre. Dembélé. Ericsson. Kane. La squadra avversaria riconquista il pallone. Hanno provato a sfondare per via centrali ma sono stati fermati. Attenzione. Fellaini. Lamela. Schweinsteiger. Martial. Bravo a intercettare questo pallone. Non era facile. Harry Kane. Il portiere in presa sicura. Palla dentro a cercare Runei. Hanno perso palla. Danny Rose. Dembélé. Dembélé. Dyer. Se ripartirà da una rimessa del portiere. Con l'aiuto. Palla dentro a cercare Runei. 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 la grafica potete vedere il dato relativo al possesso palla nessuna delle due squadre ha avuto la supremazia territoriale oggi buona la sua prestazione ci si aspettava molto da lui non ha tradito certamente le attese Runei buono l'1-2 Darmian fanno girare benissimo il pallone sicuro l'intervento del portiere Chadlin attenzione al cross Harry Kane non è riuscito a trovare lo specchio della porta poteva essere il pari è vero ha perso una grande occasione poteva essere il pareggio mancano pochi minuti tutto può cambiare è un finale intensissimo Kane va da indietro al compagno riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura stato letto il risultato metri a disposizione attenzione il portiere dice di no palla che esce palla che esce sarà faro laterale ruba bene palla all'avversario pommata c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone bel passaggio c'è grande pressione su di lui Schneiderlin risultato finale è dunque di 2 a 1 chiaramente con un attacco così vincere diventa più facile e oggi hanno dato una prova di forza impressionante Darmian ha segnato il Manchester United risultato finale ecco il tiro parte il traversone Runei grande intervento del portiere cerca la rete